Dopo un treno di vittorie utili per la risalita della china, il Rimini si ferma facendo ritrovare la gioia a un prato dato per morto, ma ripresosi la propria scena. Ma se c'è una cosa che nel Rimini non si ferma mai è l'attaccante Butai. Ancora una volta a bersaglio, quando Ricciardi inventa l'attaccante da posizione di filata, forse complice anche all'estremo di casa Pietro trova i gol che illude i biancorossi per l'1-0 ospite. Ma se di sentenza si parla dall'altra parte Minardi rimane la spina del Prato e degli avversari bravo a ribadire in rete un colpo di testa di Spinosa che si stampa sul legno alla sinistra di Scotti, prima dell'acuto vincente dei Toscani, ristabilita dunque la parità in campo. Dall'angolo Ricciardi si ricorda di un certo palanca del Catanzaro con Pietro costretto agli estremi per la deviazione in corner. Sempre dall'angolo il Prato replica con il colpo di testa di Ottara che si spegne sul fondo. Gli spazi vengono concessi enormemente, quasi 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 trova l'angolo vincente se non fosse per un super Scotti, ma al quarantissimo quasi inventa questa volta l'angolo vincente all'estrema destra del portiere Scotti, forse disturbato al momento della partenza del tiro da una selva di gambe. 2-1 per il Prato. Da una punizione di Spinosa sotto porta arriva una deviazione di testa su quale Scotti è costretto a metterci una pezza per tenere a galla i suoi squadre a riposo sul risultato di 2-1. E sempre Vutai a creare i maggiori pericoli quando inizia ripresa questa girata a termina alta. L'attaccante viene stoppato poco dopo così da Boccaccini quando sembra trovare la doppietta personale e ancora lui diviene protagonista sulla strada del pareggio quando tra i dire e fare c'è di mezzo Pietro ad evitare per l'appunto il gol che sarebbe stato del momentaneo 2-2. Finalmente si vede anche il Prato con Calamai la cui conclusione si perde sull'esterno della rete. Il Rimini meriterebbe a questo punto il pareggio ma quando in questa mischia né Casola né i compagni trovano la strada libera si capisce che la gara sia stregata per i biancorossi. La dea bendata bacia ai padroni di casa che in ripartenza approfittano di un salto a vuoto di Canalicchio costringendolo al fallo da ultimo uomo con relativa espulsione. Il Rimini essi meritatamente battuto addirittura in 10 uomini il Prato risorge tornando alla vittoria.